ciao in questo video rispondo ad una domanda che mi ha passato il mio amico massimo la domanda è di valentina è da tempo che sto cercando di progettare il mio business online ho la tendenza a rimandare continuamente non riesco mai veramente a focalizzarmi e a definire un piano d'azione il mio tempo è poco visto che ho un altro lavoro che non posso lasciare perché devo mantenermi so che spesso molte persone creano aziende nel tempo libero vorrei qualche consiglio per migliorare la gestione del tempo l'efficienza la produttività la concentrazione a volte penso mi manchi una vera formazione ma poi se cerco corsi a riguardo e ce ne sono sono veramente inavvicinabili come costi ok bene il punto di partenza per rispondere a questa domanda è che mi sembra ci sia chiara una soluzione ci sono delle intuizioni però il punto di partenza è capire il problema allora quello che mi viene da immaginare è che il problema alla base sia che valentina non sta vivendo la vita che veramente desidera poi rispetto a questo problema sta intravedendo la soluzione che è quella di costruire un business online e sta mettendo a fuoco degli ostacoli che sono la procrastinazione quindi rinviare le cose necessità di migliorare la gestione del tempo della concentrazione e quant'altro quindi in questa domanda ci sono due intuizioni importanti la prima è che per ogni mestiere servono delle competenze particolari ok su questo il mio capo londra gheri quando faceva la selezione formazione sviluppo mi martellava mi martellava mi martellava mi siamo pratici qual è il mestiere di carriere le competenze e andiamo a selezionarle qual è il mestiere quali sono le competenze e andiamo a svilupparle e qui c'è già una buona consapevolezza c'è questa intuizione dell'importanza dell'avere le competenze per fare un mestiere ok primo passaggio secondo l'importanza di gestione del tempo dell'efficienza della produttività il gestire la procrastinazione il gestire la concentrazione questa intuizione mi fa fare il passaggio a un aspetto invece che qui non vedo che credo sia un aspetto da guardare cioè prima del mestiere di imprenditore online c'è un altro mestiere su cui portare l'attenzione il mestiere in cambiamarcia che è un percorso che faccio online è il mestiere che chiamiamo di amministratore delegato della me stesso spa ora questo è un mestiere tanto importante quanto spesso non sempre trascurato perché dico che è un mestiere importante perché il mestiere di amministratore delegato della me stesso spa o se vuoi puoi chiamarlo architetto della tua vita è quel mestiere che ha la responsabilità di progettare costruire e realizzare la vita che desideri detto in un altro modo questo mestiere è talmente importante perché perché dove sei oggi quindi ognuno di noi può fare questa analisi dove sono oggi le soddisfazioni che ho e l'insoddisfazione che ho i problemi che ho e i problemi che non ho la realizzazione che ho o la realizzazione che non ho la serenità che ho o la serenità che non ho dipendono da che cosa da quanto siamo stati efficaci nel fare questo mestiere quindi secondo me questo è il punto di partenza ragionare in termini di il mestiere principale dopo gli altri in questo caso c'è il mestiere di imprenditore online sono un di cui può essere mestiere di imprenditore online mestiere fidanzato mestiere fidanzata mestiere moglie mestiere marito mestiere venditore sono tutti i mestieri che vengono dopo il mestiere di amministratore delegato della me stesso spa se non ti piace questa metafora puoi utilizzare i mestieri di guida di te stesso il concetto però è questo è il punto di partenza e allora come c'è nell'intuizione per ogni mestiere servono delle competenze quali sono le competenze che servono per fare il mestiere di guida di se stessi le competenze si chiamano competenze trasversali questi sono il punto di partenza allora da questo inquadramento se vuoi teorico passiamo alla pratica ai consigli i consigli per te sono di lavorare sulle competenze traversali in particolare ti consiglierei di partire da la capacità di concentrarti e qui ti consiglio un articolo del mio blog che si chiama come concentrarsi la guida definitiva per mantenere focus e non disperdere energie è un articolo che secondo me è il punto di partenza perché tra l'altro scoprirai un personaggio un po particolare il personaggio si chiama ego infantile che è il responsabile ad esempio del fatto che tu e tanti altri tendiamo a rinviare le cose a procrastinare e quindi ti lascerei con questo consiglio pratico finale a coni aggiungo un altro che è quello di iscriverti a coltivalacrescita.com è un progetto dove iscrivendoti ogni giorno gratuitamente ricevi una mail che ti accompagna passo passo e soprattutto a piccoli bocconi nel mondo molto ampio molto vasto ma stra mega fondamentale delle competenze traversali perché perché non lo dico io lo dice l'università di harvard l'85 per cento del successo nel lavoro dipende dalle soft skills che in italiano si chiamano competenze trasversali quindi mi auguro di vederti dall'altra parte e in ogni caso ti faccio un grosso in bocca al lupo per la tua crescita benessere e prosperità